Ma cosa stai facendo? Amore, sto cucinando la pasta a pomodoro. Sto iniziando a realizzare adesso quello che è successo. Per me è difficilissimo spiegarvi quello che ho vissuto e quello che sto vivendo adesso. È una roba... è un'altalena di emozioni. Ma cosa stai facendo? Amore, sto cucinando la pasta a pomodoro. Ragazzi, volevo condividere con voi la mia prima notte in un letto vero. Perché era l'albergo di ieri, il letto non l'ho neanche toccato. La figata è che ho iniziato a rimettere le maglie S che pensavo di dover buttare. Quindi sono magrino. Stasera ho mangiato la pasta al pomodoro che sognavo nella vita. L'altro pasta proteica. Quindi non ingrassa. Qua c'è Camilla. I gatti sono da sotto. C'è un temporale pazzesco. Volevo augurarvi buonanotte. Grazie di tutto. A domani. Ciao.